Leonardo DiCaprio è un vecchio con dei gusti sessuali strani a letto. Parole di Ieke Conins, Playmate 22N, che sostiene di aver incontrato l'attore di Killers of the Flower Moon in un club esclusivo a Los Angeles. Tra i due ci sarebbe stato un bacio e poi la proposta di un incontro particolare. Stando a quanto dichiarato dal Daily Mail. L'entourage dell'attore sostiene il contrario. Leonardo DiCaprio non ha mai incontrato questa donna. Ieke Conins è una modella 22N olandese che di recente è apparsa proprio in copertina sul Playboy dei Paesi Bassi. Il tempismo sul gossip, anche per questo motivo, è quantomeno sospetto. La Ieke, apparendo sulla copertina olandese del magazine, sostiene quindi di aver incontrato l'attore di Hollywood. Eravamo in un club segreto a Los Angeles. Uno di quei club dove si può entrare solo su invito. Era lì. Seduto con la sua felpa nera. Il suo cappello a nascondergli il viso e abbiamo incrociato gli sguardi. Il manager di Leonardo DiCaprio l'avrebbe quindi accompagnata al tavolo delle star perché Leo vorrebbe parlarti. Ieke Conins ha ricordato la reputazione di Leonardo DiCaprio. Quella cioè di frequentare solo modelle sotto i 25 anni. I due, in quella serata, avrebbero condiviso un bacio che la Conins ha definito non il migliore che ho avuto. Le sarebbe poi stata offerta l'occasione di un incontro più, approfondito alla quale però la starlette ha deciso di declinare. E' stato molto sorpreso del mio rifiuto. Evidentemente non ci era abituato. Quando ho detto che non lo conoscevo bene. Ha risposto con dolcezza e mi ha detto che rispettava la mia decisione. I dettagli sui gusti sessuali le sono arrivati da un'amica che è stata poi scelta in virtù del suo rifiuto. L'ha portata a casa e mi ha detto che teneva le cuffie con la musica alta perché non voleva sentirla. Un'altra amica che è stata con lui, invece, mi ha detto che le ha persino messo un cuscino sulla testa. Poi la sentenza. Leonardo Di Caprio è troppo strano ed è troppo vecchio per me. Il Daily Mail ha cercato di ottenere una replica dai rappresentanti dell'attore che hanno replicato. Leo non ha mai incontrato questa signora. Grazie a tutti. Grazie a tutti.